Il dialetto come forma d'arte è come strumento per ricordare l'importanza storica e culturale delle lingue locali. E' questa una delle caratteristiche di Cianfrusaglia, una rassegna di commedia in vernacolo giunta all'undicesima edizione e che si appresta a vivere un'altra stagione dopo il successo che molti attori hanno riscosso con la pellicola cinematografica Gli Sbancati, il film dedicato alla città e al suo dialetto. La rassegna è stata presentata questa mattina dai rappresentanti delle quattro compagnie e dall'assessore alla cultura Stefano Marchegiani. Il comune di Fano infatti sostiene Cianfrusaglia con un contributo economico, anche se le compagnie chiedono maggiore considerazione, visto che ogni anno attirano un pubblico di quasi 5.000 persone e inoltre se possibile vorrebbero avere un locale a loro disposizione in cui potersi incontrare e fare le prove. Intanto a rompere il ghiaccio il 16, 17 e 18 febbraio sarà la compagnia I Comediant con Nishun la da sapere. Che dire, morto in casa, una certa omertà da parte della famiglia di non far sapere questa notizia, insomma, che è una notizia, è la volontà del defunto di non far sapere appunto la notizia della sua morte. Il problema è che dentro casa ci sono diverse persone, girano diverse persone, quindi non sarà facile mantenere questa promessa. Puteva Gianca Peggio è invece il titolo della commedia in due atti che la compagnia Gaff porterà in scena il 2, 3, 4 e 9 marzo, festeggiando il trentesimo anno di attività. È la storia del nostro protagonista che si sente ingabbiato in un rapporto amoroso con la propria compagna e insomma non riesce a concludere questa storia, anzi addirittura questa, se vuole sposare, vuole organizzare il matrimonio, è già chiamato genitori, parenti, wedding planner, perché quest'anno abbiamo anche wedding planner, abbiamo, e quindi si creerà una serie di storie di incomprensioni, di battibecchi, di colpi di scena che porteranno alla fine al nostro protagonista a dire Pudeva G, Anca Peggio. Quelli del Guito tornano invece 16, 17 e 18 marzo con una nuova commedia intitolata Finché si scherza, celebrando così 37 anni di sodalizio tra la compagnia e il pubblico fanese. È una commedia noir, una commedia nera, ambientata in una casa di campagna dove succedono degli strani incidenti che i proprietari attribuiscono al caso, invece un ospite pensa che siano dovuti a loro. Il succo della trama è questo, la diversità di vedute dei proprietari e dell'ospite genera una serie di situazioni comiche che poi è il succo della commedia. L'arte del Pete Gules invece è la commedia che porterà in scena la compagnia e il Brudette in programma il 13, 14 e 15 aprile. Abbiamo un cast che spazia da Ponterio, da Pesaro, anche da Pesaro, non badiamo proprio neanche alla pezza diciamo. Abbiamo anche un'attrice famosissima che viene dall'Arkansas, che è un'attrice top proprio, una biondona che apparirà nel secondo atto e forse stiamo contattando anche un cantante importante, però quello della Sassonia, quindi più locale. Il costo del biglietto sarà di 12 euro e la prevendita al Politeama inizierà giovedì 12 e venerdì 13 febbraio dagli ore 18 alle 19. Da sabato 14 invece tutti i giorni, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Insomma un motivo per cui non mancare a questi appuntamenti è semplice e lo dice il motto stesso di Cianfrusaglia, perché ridere fa bene.